Mettiamoci al lavoro. 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 Mettiamo. Mettiamoci al lavoro. Mettiamo. 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 Mettiamoci al lavoro. Mettiamo. 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 Grazie a tutti. 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 Andare 3. Grazie a tutti. Andare 3. Andare 3. Andare 3. Andare 3. Andare 3. Tenersi a destra. Andare 3. Andare 3. Andare 4. Andare 3. Andare 4. Andare 4. Andare 4. Andare 4. Tenersi a destra e poi continuare dritto. Andare dritto. Tenersi a destra. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Abbiamo finito. Sog. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.